Belluno vi annuncio che ha superato stamattina, è l'unica che ha superato. Ai già noti distretti di Veneto Orientale, Alta Padovana e Asolano da oggi si aggiunge anche quello di Belluno, dove questa mattina si sono superati i 250 casi per 100.000 abitanti, indicatore che da DPCM prevede la chiusura delle scuole. Per i primi tre territori, dalla seconda media in su, didattica a distanza da giovedì, il giorno seguente, anche a Belluno. E allora eccola la nuova tabella dei casi nei 23 distretti del Veneto, aggiornata ad oggi. Nell'Usl 1, Belluno, come detto, ha 251,02 casi. Nell'Usl 2, il distretto di Asolo, con 279,66 casi. Si sta avvicinando, seppur ancora lontano dalla soglia di 250, il distretto di Pieve di Soligo, con 177,64. Spostandosi all'Usl 3, dati ancora lontani dal limite di guardia, con il dato più elevato, quello di Chioggia, 177 casi. Nell'altra azienda sanitaria veneziana, la 4, in Veneto Orientale, si è passati dai 302 casi di ieri agli attuali 348,18. Nella 5, Polesana, Rovigo si avvicina ai 250 casi. Ad oggi se ne registrano 224,87 per 100.000 abitanti. Nell'Usl 6, Padova, Terme e Colli, con 263,40 e Alta Padovana, con 280,27. Non troppo lontano, il distretto Padova, Bacchiglione e Piovese, con 204,27 casi. Nell'azienda 7 Pedemontana, attenzionato l'Alto Vicentino, con 233,91 casi. Situazione ancora sotto controllo nell'Otto Berica, mentre nella 9 Scaligera, occhi puntati su Ovest Veronese e Pianura Veronese, rispettivamente con 183,58 e 181,23 positivi per 100.000 abitanti. Specchio di questo aumento dei contagi, la pressione sugli ospedali. In prospettiva non ci possiamo permettere di riempire gli ospedali, perché non ce la faremo a curare tutti. Accelerare la campagna vaccinale dunque diventa quanto mai fondamentale. 53.300 le dosi di Pfizer giunte questa mattina in Veneto. E nell'ottica di accelerare le vaccinazioni, dal presidente Zaia, arriva una proposta. Mi chiedo per quale motivo vaccini autorizzati FDA, Food and Drug Administration, quindi il massimo ente di certificazione, diciamo, che viene riconosciuto a livello planetario, devono avere il vaglio successivo dell'EMA e il vaglio successivo dell'AIFA. Mi chiedo perché dobbiamo perdere tutto questo tempo, perché ci sono dei vaccini autorizzati negli Stati Uniti che noi ancora non possiamo utilizzare per questo motivo.